Bentornati come state, un saluto a tutti, vi ricordo come sempre di commentare numerosi, di lasciare un bel like e iscrivetevi da questa parte, attivate la campanella. Allora, qualche news di mercato molto importante. La prima al momento non ho trovato conferme sull'interesse di Minam Perigor, ex fiorentina Oral Brighton, 26 anni, brasiliano, nome nuovo è circolato oggi, vedremo se ci saranno degli sviluppi. Dopodiché, attenzione, incontro confermato e importante tra il Milan attraverso Zlatan Ibrahimovic e Joshua Zirze. Incontro positivo, Milan che vuole esibire questa carta a Ibra per convincere Zirze, che ha dato la propria disponibilità, nonostante la Juventus dovrebbe esserci Tiago Motta, che è un po' il suo mentore. La partita però si decide sul terreno delle commissioni, cioè chi ha Yorab Chan che vuole tanto e il Milan però è fiducioso, non chiedetemi come si può trovare l'incastro con le commissioni. Dopodiché, attenzione, ha una pista molto particolare per il centrocampo, giocatore che potenzialmente potrebbe diventare fortissimo, anche se al momento ha trovato qualche difficoltà nel suo percorso, del quale abbiamo già parlato lo scorso anno, non se ne fece nulla, lui è andato a Liverpool dove ha giocato e non giocato, operazione non facile ma al Milan piace molto e ha avuto qualche contatto nelle ultime ore anche con il suo agente Enzo Raiola, il team Raiola. E' Ryan Gravenberg, 22 anni, infatti un paio di settimane fa, 1,90, olandese, ha fatto quest'anno 26 presenze in Premier League con un gol, però ha appena 1121 minuti quindi ha giocato 12 partite. Ha fatto due gol in Europa League, uno in FA Cup, giocatore che aveva fatto molto bene all'Ajax, passato al Bayern, poi al Liverpool, dove pare non essere titolare, non essere fondamentale, 11 presenti su un gol con l'Olanda, operazione non facile ma piace molto al Milan per provare a piazzare lui davanti alla difesa. Ditemi che ne pensate se vi piacerebbe, un pallino di Moncada e con Raiola, Ibra ha ottimi rapporti. Ditemi di tutto, Igor, Zirze, Gravenberg, 2 minuti e 20 densi di calcio mercato. Iscrivetevi, lasciate un bel like e commentate numerosi. Ciao!